Oh oh, bisturi, forchetta, quasi quasi, mi faccio un auricchio, oh oh, prendi auricchio, c'è più gusto. Il mito rivelò, verrà in cerca di guai un cavaliere, a inseguire peripezie nel far west, Lo ho, sì, e dirà, dove sei, dove vai, io ho pensato, tu non devi pensare, sono io quello che penso, è proprio quello che stavo pensando. Il pensiero e l'archetipo, il fagiolo. Lo chiamavano Trinitano, su Rete 4, lunedì alle 21.10. I riflessi infastidiscono i tuoi occhi, scegli gli occhiali con lenti CT99 e No Reflex, Da Salmoiraghi e Viganò a 109 euro, soddisfatti o rimborsati. Salmoiraghi e Viganò, conoscitori di sguardi. Dopo i 60 anni la pelle è più fragile e perde il suo tono. Agere Perfect Pro Calcium ricarica profondamente la pelle, così è più forte, più tonica. Il calcio è il futuro per la mia pelle e per la vostra, noi vagliamo. Agere Perfect Pro Calcium, de L'Oreal Paris. Ho 70 anni? Non male, no? Ma cosa c'è che non va? Questa volta ci licenziano. Perché? Perché non sappiamo usare il computer e con Infostrada si può navigare gratis in Inter. E allora? Allora, siamo gli unici testimonials che non conoscono il prodotto che pubblicizzano. Facciamo finta allora. È una bugia, Mike, dai. Ma chi se ne frega? Vuoi perdere il posto? No. Scegli Infostrada e navigi gratis fino al 2009. Ma cosa fai? Chatto. Con chi? Con Silvestro, lo conosci? Chatto Silvestro? Chiama il 159. Looks bello questo sogno. È il tuo. Di Saroni, un momento che conta davvero. Vogli una mano? Il mal di schiena ti impedisce di muoverti? Flector, contro mal di schiena e dolori reumatici. Il cerotto antinfiammatorio a rilascio graduale che agisce per 12 ore. Serve un aiutino? Grazie. Magari se mi spinge fino al benzinaio. Flector, per rimetterti in moto. È un medicinale che può avere effetti indesiderati e anche gravi. È Medical Pharma. È forte. È nuovo. È 4Lip Forte. Ancora più efficace nell'aiutare a perdere peso. Grazie alla formula potenziata a base di estratti vegetali, aiuta a ridurre l'assorbimento di zuccheri e grassi, ad attenuare il senso di fame, ad equilibrare naturalmente l'apporto calorico. 4Lip Forte. Più forte lui, più in linea tu. Dalla linea 4Lip. Prodotti creati per la salute e il benessere. In farmacia o telefona all'800 176 952. Devo portargli la via. Ma sembra nuova. Ma venga a vedere qui quanto calcare. Ma lei lo usa il Calfort? Io uso un anticalcare economico. Calfort garantisce la protezione totale. Calfort è l'unico raccomandato. Gli altri non gli raccomanda nessuno. Calfort. Gran Modus, grande dentro. Con radio CD e clima a 11.990 euro. E in più su tutta la gamma Renault puoi scegliere il finanziamento con tre anni a tasso zero o con tre anni di assicurazione furto incendio in omaggio. Ma solo fino al 31 marzo. C'era un uomo che si muoveva tutto il giorno, assaporando il momento in cui si sarebbe fermato. Chi cucinava per tutti per sé amava il cibo crudo. E chi dava luce alla città non vedeva l'ora che fosse buio. Da Eni, tutte le energie di cui hai bisogno perché tu possa decidere sempre come usarle. Scegli il gas e l'elettricità di Eni. Scegli la più grande società energetica italiana. Il mio riso è rapidissimo. Dr. Scotty, ma certo. Riso scotti rapidi. Pasmati. Rapidità e qualità. Riso scotti. Odio cuore. Mangiar bene e sentirsi in forma. Non voglio solo liberarmi degli odori. Voglio anche liberarmi dei batteri che si nascondono in giro. Il nuovo Haust 3 in 1 è perfetto per questo. Elimina i cattivi odori e uccide anche i batteri sulle superfici. Nuovo Haust 3 in 1 uccide il 99,9% dei batteri sulle superfici e anche sui tessuti d'arredo. Così non devi comprare tre prodotti diversi. Un bel vantaggio. Via gli odori, via i batteri dalle superfici con il nuovo Haust 3 in 1. È un presidio medico chirurgico. Levati da lì, quello è il mio posto. E chi l'ha detto? Guarda che chiamo mio cugino, eh. E il doppio di me è il Condor Passa. Mie, che paura. Eccomi! Doppia ricarica con Wind per 6 mesi. Due ricariche al prezzo di 1. Ehi, doppio cretino! Perché non ti chiami a tua sorella? Da Wind. Vecchia Romagna. Intense emozioni. Oh no! Via di qui tu! Grandioso! Ho io via Cal Plus. Multiazione igienizzante. Allora non è solo contro il calcare. Attacca lo sporco in profondità, igienizzando. Massimo! Via Cal Plus. Posso usarlo anche in bagno. Via Cal Plus è stato eletto prodotto dell'anno dalle consumazioni. Amatrici, non ti resta che provarlo. Tienese l'americano. Siamo una squadra canadese. Rapiti. Ti vuoi dire? Benvenuti in Equa, dottor Presidente Black. Il mio esercito è molto efficiente, signora. Di agli uomini dietro di te che se le cose si mettono male scappiamo. Per i Bellissimi. Una sconvolgente avventura tratta da una storia vera. Cento giorni nella giungla. Sabato a mezzanotte, 10 su Riti 4. Tom ha russato tutta la notte. Chiedi che ti cambi Rosetta. Sì, fatela dare.